Grave lutto nel mondo della musica, è morto infatti a 72 anni di età Stefano Dorazio, era il famoso batterista TV. La notizia è stata annunciata su Twitter dall'amico Bobo Craxi ed è stata confermata dal grande Robby Facchinetti attraverso Facebook. Stefano ci ha lasciato due ore fa, era ricoverato alla settimana e per rispetto non ne avevo mai parlato, oggi pomeriggio dopo giorni di paura sembrava che la situazione stesse migliorando, poi stasera la terribile notizia. Dorazio ha fatto parte dei Pooh dal 71 al 2009, poi il ritorno nel 2015 e nel 2016 per la reunion della band per il 50ennale. Scrisse molti dei testi delle canzoni dei Pooh e ne fu anche il relativo contabile. Era un personaggio davvero carismatico, una persona semplice, buona, in gamba, per bene, una persona insomma sempre con il sorriso stampato sulle labbra. Questo era Stefano Dorazio da come si legge sul web e chi l'ha conosciuto da vivo sa benissimo che effettivamente parlando rispecchiava la persona in questione che ho poc'anzi descritto. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi. Questo video non vuole reddere la privacy di Stefano Dorazio né della famiglia Dorazio a cui mi stringono il dolore, ma informare e basta. Grazie a tutti Stefano Dorazio, che tu possa riposare in pace. Amen.